I carabinieri del comando di Ascoli Piceno hanno acquisito documenti sui lavori che negli ultimi anni hanno interessato l'ospedale di Amandola, Ceriscioli e rimettere dentro tutti i servizi possibili nel minor tempo possibile. La terra continua a tremare nelle zone terremotate dove nella notte poco dopo l'alba si sono verificate tre scosse di magnitudo superiore ai 3 gradi, riaperta la salaria, quinto decimo di Ascoli Piceno. Ancora pioggia in regione in particolare, nelle zone colpite dal sisma, per rivedere nuovamente il sole occorrerà aspettare l'arrivo della domenica. Dalla 10 al 12 settembre la fiera di San Nicola in occasione della festa del patrono, evento di ritrovo che va a chiudere la stagione estiva pesarese. Le prove di staticità condotte sull'impianto sportivo hanno dato esito positivo. Le verifiche si sono concluse oggi. Il sindaco ha confermato che la tribuna coperta ovest e la parte superiore della curva sud non presentano problemi. Buonasera da Etg Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. In apertura di questa edizione la pagina del terremoto, quest'oggi abbiamo fatto tappa ad Amandola, un altro dei centri particolarmente colpiti dal sisma del 24 agosto. In particolare è l'ospedale di Amandola, uno degli edifici più lesionati con maggiori danni. La notizia di oggi è il fatto che i carabinieri abbiano acquisito dei documenti sui lavori e sulle migliorie che nel tempo sono stati eseguiti proprio sulla struttura. Con il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, che invece ha detto che presto l'ospedale diventerà operativo. Il servizio di Linda Cittadini. Ho fatto transennare due metri più in là in attesa che qualche locale me lo mettano a posto in maniera che poi mi sposto anch'io. Le crepe da zona rossa sono ben visibili nell'ufficio di Tonino D'Angelo, direttore medico del presidio ospedaliero di Amandola, dopo il sisma del 24 agosto. L'obiettivo è completare i lavori per far tornare la struttura operativa nel più breve tempo possibile. Emerge dall'incontro in ospedale con il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, che risponde dunque ai cartelli «l'ospedale non si tocca». Dopo i danni incassati dal nosocomio, su cui è stata anche avviata un'indagine della procura, il timore era che la zona montana, a un'ora da fermo e da macerata, restasse senza presidio. 900 ricoveri all'anno nel reparto di medicina, circa 500 idei ospitali in chirurgia. Per ora è tutto fermo, ma con i lavori in corso, anche in mattinata, almeno la radiologia dovrebbe tornare operativa a giorni. Stiamo lavorando contemporaneamente sia sul tetto, stiamo ristrutturando tutto il piano meno uno della radiologia che dovrebbe essere consegnato fra domani e poi domani. Dalla prossima settimana faremo anche le tacche con mezzo di contrasto perché avremo anche l'anestesista finalmente. Tempi più lunghi forse per le palazzine della RSA, dove per un soffio i mattoni crollati dalle mura non hanno colpito i pazienti ricoverati attualmente all'ospedale di fermo. Il ritorno è previsto, però i tempi non glieli su assolutamente dire, perché stiamo parlando delle due palazzine che hanno subito i danni maggiori. Palazzine di nuova fattura. La palazzina che ospitava la medicina, la chirurgia e il laboratorio è stata costruita intorno agli anni Ottante, prima metà degli anni Ottanta, mentre l'RSA è addirittura del 2009. Diversi sono i materiali, avendo un cemento armato parzialmente elastico, quindi si muove, è un mattone, diciamo, più rigido, quindi si spacca. E sono i mattoni, quindi i tramezzi che si sono rotti, insomma. Però pare che questo è da considerarlo positivo, perché quando c'è questo tipo di reazione pare che la struttura è fatta bene. Qui abbiamo avuto la grossa fortuna di non aver avuto danni alle persone. Noi abbiamo avuto dei calcinacci, anche di un chilo, sui comodini, ma non sulla testa dei pazienti. Questo è da considerare positivo, diciamo. L'obiettivo espresso dal Presidente della Regione è il ritorno alla normalità della vita ospedaliera, se non un potenziamento della struttura stessa. La collaborazione con Verma mi sta bene, però l'ospedale di Amantola deve avere le sue gambe. Premora delle tendopoli, perché sono tantissime quelle che sono nate nelle campagne marchigiane, soprattutto per andare incontro alla volontà di chi non vuole abbandonare completamente la propria casa resa inagibile dal sisma. Sono venti in tutto ad Amantola, ecco alcune storie che arrivano da lì. Tra un mese e poco più si raccoglie anche l'uva per fare la cantina, però se non posso andare a casa non posso neanche ancora raccogliere l'uva, che c'è tutto dentro casa per fare la cantina. Come fai? Si può rilasciare tutto così? Non è che possiamo rilasciare tutto qui perché ci sono tutti sciagallaggi, non possiamo muoverci da qua. Casa vostra però è inagibile? Sì, ci ha messo inagibile il comune di Amantola. Ho mutato la protezione civile, ho portato la tenda e allora ecco, muoversi da qui non è impossibile, abbiamo un po' di animali, non è che ce ne dà, ci sono polli, conigli, strada qui, non tu rilasci, bisogna dargli da mangiare. Abbiamo due famiglie, io ho cinque persone, più già mia madre è con mio fratello. Tutti in tenda? Sì, tutti in tenda, tutti e sette. È dura? Sì, molto dura. Dentro la tenda c'è qualche piccolo buco che piove anche dentro, però cerchiamo di resistere, ecco. Di storie simili a quella di Giuseppe e la sua famiglia, ad Amantola ce ne sono almeno 20 e molte di più nell'area dell'Italia centrale scossa dal sisma, specie in campagna, nelle zone più isolate, dove non si possono lasciare animali e attrezzature. E case che però devono restare chiuse. Nel comune di Amantola ci sono poco più di 250 sfollati. Circa 80 rientrano la sera nel campo allestito dalla protezione civile al centro sportivo, dove le brande sono divise in due aree, per gli uomini e per le donne, mentre alcune tende sono state allestite nell'area camper, ma verranno utilizzate solo in caso di urgenza, fa sapere la protezione civile. Al centro del paese resta attivo il presidio dei vigili del fuoco, che hanno già raccolto decine e decine di richieste per le verifiche in case ed edifici. Fasciato nei nastri bianchi e rossi del pericolo crolli gran parte del centro storico, dove ogni scorcio è una nuova finestra aperta sul Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La terra continua però a tremare nelle zone terremotate, dove nella notte, poco dopo l'alba, altre tre scossi di magnitudo superiore ai 3 gradi, riaperta la salaria quinto decimo di Ascoli Piceno dopo la frana dovuta alle piogge di ieri sera, e poi c'è il capitolo scuole con Arquata, che in qualche modo si farà trovare pronta per il 15 settembre, il giorno fissato per l'avvio dell'anno scolastico. È stata riaperta nella mattinata la salaria, chiusa nella serata di martedì per una frana di massi sulla sede stradale nei pressi di Quinto Decimo di Acquastanta Terme, a pochi chilometri da Arquata del Tronto e la frazione Pescara, le località che hanno incassato i pugni più violenti del terremoto del 24 agosto. Disagi anche alla viabilità, prima con la chiusura della strada per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, poi a senso unico alternato in una nottata per molti consumata in tenda e caratterizzata da pioggia, umidità e nuove scosse. La più forte è quella all'alba, pochi minuti dopo le 7, di magnitudo 3.4 con il piccentro a 8 chilometri da Arquata del Tronto e 9 da Norcia. I comuni premono per i moduli abitativi i container, le tende con l'arrivo del freddo in montagna hanno le ore contate. Da quanto si apprende però dalla Protezione Civile Nazionale, sarebbe esclusa l'ipotesi di utilizzo dei moduli abitativi dell'Expo di Milano. Non abitazioni, ma potrebbero essere utilizzati per aree collettive o scuole. Ad Arquata il sindaco Petrucci punta a far tornare sui banchi i bambini in tempo per il 15 settembre, anche sotto una tensustruttura, ma sono attesi dei moduli promessi dagli alpini che dovrebbero trovare localizzazione vicino alla materna di Arquata. Giovedì mattina invece il presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini, l'assessore Gazzolo e il direttore della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, Maurizio Mainetti, saranno di nuovo a Montegallo di Ascoli Piceno, il comune terremotato adottato dalla Regione su richiesta della Protezione Civile Nazionale. Previsto anche il commissario straordinario Errani per il sopralluogo nell'area del centro sportivo che ospiterà i moduli per la scuola e il municipio. Il meteo perché continua ad essere maltempo, soprattutto nelle zone appenniniche delle Marche, quelle insomma del cratere sismico. Per riavere il sole occorrerà aspettare l'arrivo della domenica. Con piogge intermittenti e temperature leggermente in calo, gli amanti del bel tempo dovranno attendere fino a domenica per lasciare nuovamente a casa l'ombrello. Pur se in maniera ridotta, infatti, il maltempo che da oggi ha interessato le Marche continuerà anche per la giornata di domani. Nei settori interni della Regione abbiamo e avremo anche per i prossimi giorni dei annugolamenti più consistenti con dei rovesci e dei temporali che nella giornata di oggi saranno maggiormente diffusi, in particolare nel settore meridionale della Regione. Poi nei prossimi giorni saranno più sporadici, con dei fenomeni di precipitazione che domani saranno concentrati probabilmente nella prima parte della giornata e dopodomani invece più nel pomeriggio che però comunque saranno intermittenti, quindi non continui come abbiamo avuto oggi. Ecco, quindi nei settori meridionali interni, quelli colpiti dal sisma, no? Ecco, quindi diciamo che si prevedono giorni un po' con temperature anche in ribasso? Dunque, le temperature sono state in ribasso nella giornata di ieri e oggi sia per l'ingresso dell'aria fredda che per il fatto che non c'è insolazione e quindi il sole non può riscaldare il territorio, quei territori. Poi nei prossimi giorni, siccome la nuvolosità tenderà un pochino a diminuire, le temperature sono previste in rialzo. È sempre chiaramente difficile fare previsioni a lungo raggio, però ecco, diciamo che il maltempo continuerà ad esserci o magari possiamo sperare ancora in un ritorno di giornate calde? No, il fine settimana è previsto in miglioramento, quindi la giornata di domenica, diciamo. Poi dalla giornata di lunedì il miglioramento sarà ancora più consistente che però non ci riporterà i valori di temperatura che abbiamo avuto in questo inizio di settembre, nella settimana scorsa. Quindi praticamente ci prepariamo piano piano all'autunno? Sì, all'autunno però con temperature gradevoli, quindi ancora un pochino di sole, insomma, ce lo godiamo, ecco. Si chiama invece Amatriciana Solidale Anconetana l'iniziativa per aiutare le vittime colpite dal sisma, evento che si terrà lunedì prossimo, 12 settembre, dalle 19.30 al Porto Antico di Ancona ed organizzato dal Movimento Idee per Ancona che spontaneamente ha, sul social Facebook, avuto già più di 5.000 iscrizioni ad appoggiare questo evento anche l'Ancona 1905. Per tutti i partecipanti la possibilità di assaggiare il menù solidale con il ricavato che andrà appunto a favore delle popolazioni colpite. I prezzi ovviamente saranno modici, in modo tale che saranno accessibili per tutte le fasce e che dire, vi aspettiamo numerosi per far sì che anche voi riusciate ad aiutare le persone colpite e farle ritornare alla vita normale. Ci sarà un palco dove la presentatrice Laura Tangerlini, lei è una giornalista di Rai Tg e Nostrana di Iesi, anche se importata a Roma, farà una carrellata di artisti, di 12 artisti, che porteranno musica rispettosa, non sarà un evento, come abbiamo detto, festoso, un evento contributo. Questa musica rispettosa è un omaggio che questi artisti danno, completamente anche loro in forma gratuita, per far sì che questa cosa sia alla portata di tutti, insomma. C'è Ermal Meta, è un cantante che sta scalando la hit della classifica italiana della musica, è un artista che comunque sia sta collaborando con molti cantautori, come Ruggeri, come Emma, come Manoia, come Marco Mengoni, ci sarà David Mazzoni, il famoso tenore anconetano che aprirà la serata, ci sarà il comico di Zelig, Alberto Livernini, ci saranno i Turchis Caffè e i Cora Canè, che sono un gruppo che si era esibito con De Andrè. Questo è un movimento che è nato veramente per caso, spontaneamente dal basso, dalla popolazione tramite Facebook, cosa che anni fa non era possibile. circa 5.000 persone spontaneamente tramite un gruppo di Facebook che poi è diventata una pagina, che poi è diventata un'associazione, che poi è diventato un evento, quindi dal web alla realtà, in meno di tre settimane, si sono raggruppati e hanno unito le forze e hanno raccolto l'entusiasmo di decine anche di aziende, di enti pubblici che spontaneamente hanno dedicato il loro entusiasmo per questa iniziativa. La pagina ora della cronaca, la Guardia di Finanza di Porto Recanati ha sequestrato un laboratorio clandestino per la realizzazione di capi di abbigliamento contraffatti allestiti in un appartamento dell'hotel house, sequestrati oltre 20.000 pezzi, fra capi di abbigliamento, etichette, cliché, punzonatrici, macchine da cucire. I finanzieri hanno trovato anche giubbotti, borse e maglieria già confezionati per la commercializzazione, tutti appunto con marchi contraffatti. Un senegalese di 38 anni in regola con il permesso di soggiorno in possesso di una partita IVA per il commercio ambulante di abbigliamento è stato denunciato a piede libero. Il valore commerciale della merce sequestrata supera i 70.000 euro. Presentate dal Comune di Ancona e da Conerobus le nuove tariffe per gli abbonamenti e per il servizio di trasporto pubblico locale. Ecco che cosa ne pensano gli utenti del capoluogo. Conerobus e Comune di Ancona puntano a promuovere e incentivare l'uso dei mezzi pubblici con i nuovi abbonamenti agevolati per giovani, anziani e famiglie. Ma cosa pensano delle nuove tariffe cittadini anconetani? Io sono regola. Vuole sapere l'abbonamento? No, che regola mi fido. Volevo sapere se con il prezzo come lo trovo. Certo, 35 euro o meglio. Non lo so dopo. Quindi si è abbassato rispetto agli altri anni? Tantino sì. Perché non ancora rifaccio l'abbonamento quindi non so ancora nulla. Gli altri anni quindi usavi i mezzi pubblici? Io ho fatto l'abbonamento quello con l'università quello universitario che era 130 fino a giugno. Io ho l'abbonamento annuale. Dovrebbero essere delle riduzioni anche per chi ha più di 65 anni quindi può essere utile specialmente in momenti difficili come questo avere degli sconti anche? Eh va bene certo avere degli sconti se ci sono ben venga. Per ora ancora uso un po' la macchina quando non l'userò più penso che farò senz'altro l'abbonamento perché sarà utile quello. Studiate con l'inizio del nuovo anno scolastico fermate ad hoc per gli studenti e si pensa già a nuovi collegamenti in previsione della prossima estate come quello per il porto. Ma ci sono delle tratte in cui i collegamenti già esistenti andrebbero migliorati? Voi prendete sempre l'autobus per spostarvi andare a lavoro? Sempre prende l'auto io c'è l'abbonamento. I servizi come sono? Un po' ridotti un po' ridotti Ma ridotti rispetto a prima oppure dovrebbero? Rispetto a prima un po' ridotti rispetto a prima Dove magari secondo lei andrebbero ampliate le tratte? Eh di più di là Brici Bianchi di qua parte 22 un'ora a pomeriggio Come servizi come si trova? Prende spesso l'autobus? Beh abbastanza spesso sì sto qui al centro non è che vado in periferia quindi è più complicato qui è abbastanza abbastanza agevole Più o meno come ti sei trovata? Anche a trasporti? Bene Adesso c'è il disagio perché è bloccata la strada per il viale quindi comunque c'è l'1-4 che fa ritardo però bene Dalle 10 al 12 settembre invece la fiera di San Nicola a Pesaro in occasione della festa del patrono un evento anche per chiudere la stagione estiva pesarese A conclusione di un'estate frizzante densa di eventi arriva a Pesaro dal 10 al 12 settembre la fiera di San Nicola è l'appuntamento con la tradizione in cui il lungomare della città si colora di 600 bancarelle che propongono oggetti per tutti i gusti e per tutte le tasche accanto ai banchi degli ambulanti dalle merci più svariate ci sono esposizioni di sapore popolare dalle enogastronomie regionali ai prodotti più comuni come la cipolla intervallate da attività di animazione dedicate ai bambini e agli adulti di fronte al suggestivo scenario della palla del pomodoro in piazza della libertà con uno spettacolo pirotecnico finale un evento sempre più attento alle esigenze dei visitatori che provengono non solo da Pesaro e più in generale dalle Marche ma anche dall'Umbria e dalla Romagna per quanto riguarda la viabilità la società Pesaro Parcheggi metterà a disposizione i servizi navette che passeranno negli appositi parcheggi ogni 15 minuti si sta per chiudere una stagione eccellente con i numeri i primi riscontri positivi da parte degli albergatori da parte anche dei bagnini e allora questa fiera di San Nicola che è un momento di tradizione popolare ma di grande accoglienza solo l'anno scorso ha registrato più di 300 mila presenze una delle fiere più grandi del centro Italia con 650 espositori in una superficie quella del lungomare di 18 mila metri quadrati quindi commercio accoglienza turistica ma anche un ritrovo per i bambini visti i grandi eventi e anche per gli adulti non solo per le grandi bancarelle che ormai richiamano da sempre da più di 100 anni ad accogliere questo grande momento importante ma anche quel momento finale così particolare con i fuochi d'artificio a ritmo di musica abbiamo il parcheggio del San Decenzio con le navette che partiranno appunto dal San Decenzio sia il sabato dalle 14 sia alle 24 che alla domenica poi abbiamo sempre a disposizione il parcheggio del Curvone che è un parcheggio in struttura i parcheggi dei pesaro parcheggi sono tutti quanti aperti quindi in struttura fino a tardanotte quindi sono usufruibili ma consideriamo anche che molti pesaresi usano poi le biciclette e quindi prevediamo oltre ad avere la polizia municipale e tutte le forze dell'ordine come grande supporto per la viabilità prevediamo che anche quest'anno le cose vadano bene come sono andate negli anni precedenti Nel prossimo fine settimana torna l'appuntamento invece a Macerata con Arte Migrante il Festival Internazionale di Circo Contemporaneo e Teatro di Strada giunto quest'anno alla 17esima edizione vediamo Allora ci sono dei problemi con il servizio noi allora ci fermiamo per una breve pausa torniamo però tra poco con le notizie di sport Allora ci sono dei problemi Grazie a tutti Grazie.